Salve amici, oggi ricorre un compleanno davvero particolare. Esattamente l'anno scorso, il 10 febbraio del 2017, come associazione Forza Andrea abbiamo presentato all'amministrazione comunale un progetto per il miglioramento della viabilità urbana nel quartiere Urba. Un progetto che ancora ferma i box. Rifaccimento dell'asfalto, rifaccimento della segnaletta corizzontale, bande rumorose che ancora faticano a trovare luce. D'altro canto noi, in questo anno, non ci siamo fermati. Abbiamo bussato direttamente i piani alti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede a Roma ed abbiamo ottenuto un sopralluogo che avverrà giovedì 22 febbraio 2018 a partire dalle ore 10. Noi sicuramente vi terremo informati. A presto!